Il Comune di Pesaro continua ad investire nello sport e dopo la ristrutturazione dello Stadio Benelli e la dismessa della vecchia pista non più a norma, arriva anche il circuito di ciclo rotellistica che sarà realizzato nella zona di Torraccia, nei pressi della Vitrifrigo Arena. Grazie agli 800.000 euro stanziati dallo Stato e altri 700 dal Comune di Pesaro, la città sarà dotata di un moderno impianto sportivo dalla duplice veste, composto da un circuito di oltre due chilometri destinati al ciclismo, in grado di ospitare anche competizioni a livello nazionale, più un anello interno di circa 600 metri dedicato alla federazione rotellistica per allenamenti di pattinaggio di velocità. Un investimento ha sottolineato Valentina Vezzali, sottosegretaria di Stato con Deleghe allo Sport, collegata a distanza, che permetterà a due realtà di dotarsi di un impianto importante per la promozione dell'attività giovanile, in linea con il concetto che lo sport è per tutti e di tutti. Soddisfatta anche Mila Della Dora, assessore allo sport del Comune di Pesaro. È un impianto sportivo omologato dalla federazione ciclismo, tant'è che la federazione nazionale ha sostenuto questo progetto con lo stesso governo, quindi erano presenti qua insieme a me anche la sottosegretaria Valentina Vezzali e il presidente Cordiano Dagnoni, il presidente nazionale e nonché il sindaco Matteo Ricci. Quindi come amministrazione siamo veramente soddisfatti di poter dare una risposta a quello che è un movimento sportivo importante. Il via ai lavori è previsto per la prossima primavera ad aprile e dureranno circa sette mesi e comprenderanno anche lungo il perimetro del circuito, la realizzazione di una fascia di sicurezza libera e priva di ostacoli, due piazzole di sosta, una tribuna dedicata agli spettatori, un percorso pedonale di collegamento ed una piazzola dedicata a gazebi ed allenatori. Sarà poi predisposto anche un impianto di illuminazione che consentirà l'utilizzo della pista anche di notte. Abbiamo tanti ciclisti che sono in strada e quindi volevamo dare un impianto che permettesse anche di allenarsi in sicurezza ma anche un impianto che desse una risposta all'attività di base. Abbiamo tanti ragazzi appassionati, tanti giovani ciclisti che vanno ad allenarsi altrove. Ecco, vogliamo dare una risposta a loro, vogliamo che il movimento ciclistico possa ripartire nella nostra città quindi dando un impianto che è veramente un'eccellenza a livello nazionale.